Un'iniziativa di grande civiltà e devo dire che è una delle tante iniziative che vedono la regione Campania, prima regione d'Italia, non c'è in Italia un numero verde veterinario per garantire un'assistenza 24 ore su 24 agli animali d'affezione, ma soprattutto c'è un programma più generale che riguarda la protezione degli animali, che riguarda l'inserimento di microchip negli animali d'affezione, la realizzazione di un registro degli animali d'affezione e anche di un registro tumori degli animali che hanno problemi oncologici. A me pare che sia veramente un'iniziativa di grande civiltà, tenete conto che ci sono migliaia di persone, soprattutto anziane, per le quali la presenza di un animale d'affezione è un motivo di superamento di una condizione di solitudine, ma anche un motivo di sicurezza per chi vive da solo in un appartamento oggi. E dunque ci è apparsa davvero una bella iniziativa di grande civiltà, di grande sensibilità, non solo nei confronti del mondo animale, ma anche nei confronti di tanti padroni di cani, di gatti, che a volte hanno problemi, magari anche in orario notturno non sanno a chi rivolgersi. Siamo veramente molto soddisfatti.